E' confermato le elezioni comunali si terranno in Friuli Venezia Giulia il 3 e 4 ottobre, lo ha deciso oggi la giunta regionale. E la campagna elettorale entra nel vivo, presentata la squadra e il programma della lista di piazza, Pino Roveredo in campo con Punto Franco di Russo. E a Muggia il centrodestra presenta ufficialmente la candidatura di Paolo Polidori a sindaco, obiettivo puntato sui giovani, lavoro e turismo. Mille test salivari al giorno negli istituti Sentinella, oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale e la strategia della regione per il rientro a scuola. Arrestati due ragazze e un ragazzo serbi da poco in città avevano commesso un furto picchiando la proprietaria dell'appartamento che li aveva sorpresi. Si è insediato Pierfrancesco Trincas, nuovo direttore del centro di salute mentale di Barcola. I sindacati della sanità FIAS e dei vigili del fuoco a Conapo lanciano alla regione una proposta per migliorare i tempi del soccorso con un supporto tecnologico. Buonasera dal telegiornale di Telequattro. È dunque confermato le elezioni comunali e le elezioni amministrative si terranno in Friuli Venezia Giulia ai prossimi 3 e 4 ottobre. La decisione è stata presa dalla giunta regionale ed è stata comunicata nel pomeriggio di oggi. Vediamo il servizio. Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno dunque domenica 3 e lunedì 4 ottobre. La conferma nel pomeriggio dopo la decisione della giunta regionale su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. I comuni interessati sono 38, solo 4 con più di 15.000 abitanti, oltre a Trieste, Pordenone, Cordenonce e San Vito al Tagliamento. In zona triestina c'è anche il comune di Muggia, mentre nell'Isontino va a rinnovo anche l'amministrazione di grado. Va ricordato che, come previsto dalla legge regionale 6 del 14 maggio scorso, per assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. La stessa legge 6 aveva stabilito che le elezioni amministrative dovessero tenersi in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. Fino a pochi giorni fa, la data più probabile sembrava essere il 10 ottobre, che però a Trieste coincide con la domenica della Barcolana, una concomitanza scongiurata dalla conferma delle nuove date. E torneremo a parlare fra poco della campagna elettorale che entra nel vivo sia a Trieste che nella vicina Muggia. Ma ora occupiamoci del piano scuola perché quest'oggi con un tavolo ad hoc la regione ha illustrato le proprie strategie per il rientro a scuola. Tre i punti, stanziamenti, attenzione al trasporto pubblico locale e misure ulteriori di profilassi e prevenzione. Vediamo quali nel servizio di Umberto Bosazzi. Mille test salivari ogni giorno da effettuare in alcune scuole sentinella del Friuli Venezia Giulia. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha annunciato assieme ai colleghi con delega all'istruzione Alessia Rosolene e alle infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti gli strumenti che l'amministrazione regionale metterà in campo per garantire il rientro a scuola in presenza e al 100% in sicurezza. Oggi, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è tenuto un tavolo ad hoc convocato dall'ufficio scolastico regionale. Per la fase di ripartenza, affermato Rosolene, i 3 milioni di euro stanziati con la assestamento di bilancio faranno fronte alle carenze di organico e alle emergenze didattico-organizzative. In tal senso verrà signato un protocollo che terrà conto anche delle istanze sindacali e che andrà ad incrementare i fondi destinati alla scuola digitale. Per quanto concerne invece il trasporto pubblico locale, l'assessore Pizzimenti ha assicurato l'impegno della regione per rispettare la capienza a bordo dell'80%, ma anche per fronteggiarne un'eventuale riduzione legata ad un ipotetico aumento dei contagi. Obiettivo della regione fare in modo che i ragazzi arrivino a scuola in sicurezza e in turno unico. Pizzimenti ha ricordato come la regione possa intervenire sul numero delle corriere che trasportano gli allievi dai paesi nei grandi centri, non su quello degli autobus urbani. Oltre alla misura preventiva, Riccardi ha annunciato l'utilizzo della protezione civile per evitare assembramenti all'inizio o alla fine delle lezioni. L'assessore ha ricordato che il personale scolastico in regione è vaccinato nella quasi totalità, mentre nella fascia dai 12 ai 19 anni l'adesione alla campagna vaccinale tocca il 47,2%. Infondere fiducia alle persone scettiche riguardo ai vaccini è una delle priorità che si è posto il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Tutto ciò deve avvenire raccontando fatti provati e non fake news e fidandosi della scienza. Anche sul vaccino ai giovanissimi Fedriga è ottimista e dichiara io e i miei figli li farò vaccinare. È normale, nel stesso momento di crescita, devo dire fortunatamente riusciamo a contenerla anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni, vediamo dei numeri in aumento ma fortunatamente sono numeri assolutamente contenuti ancora oggi. Ci auguriamo continui così, ovviamente è fondamentale andare avanti con la campagna di vaccinazioni e quindi l'invito che continuo a fare, di aderire alla campagna vaccinale è fondamentale per non rischiare di ritrovarci in una situazione difficile come quella che abbiamo avuto nei mesi precedenti. Bisogna continuare a spiegare, a spiegare la verità dei fatti perché purtroppo vedo che soprattutto sui social continuano notizie assolutamente lontane dalla realtà rispetto ai vaccini. I vaccini sono sicuri, i vaccini funzionano, i vaccini evitano la malattia grave e soprattutto sulla popolazione over 50 abbiamo avuto moltissime ospedalizzazioni e moltissime terapie intensive, quindi vuol dire proteggere se stessi e proteggere anche gli ospedali perché quando un ospedale è pieno significa che non c'è il problema soltanto di chi è malato di Covid ma pensiamo a tutte quelle altre patologie, penso ai malati oncologici che magari non riescono a trovare risposta. C'è chi ha cominciato con anche le vaccinazioni ai più piccoli, dai 12 anni in poi, lei cosa ne pensa? Penso che è utile che tutti partecipano alla campagna vaccinale, sono contro l'obbligo ovviamente, soprattutto anche per i più piccoli, però io come ho avuto modo di dichiarare fra i vaccinari i miei figli, il vaccino è stato testato, ha avuto le tre fasi di sperimentazione e quindi è entrato sul mercato in modo, io sto vedendo magari che qualcosa che non è stato per nulla testato, non ha avuto nemmeno un protocollo di sperimentazione, viene venduto come la panacea del Covid e mentre quello che è stato testato, vagliato dall'autorità scientifica, qualcuno lo vuole mettere in dubbio, c'è proprio il contrario della razionalità e della sicurezza sanitaria dei cittadini. Il bollettino quotidiano del contagio parla di parecchi contagi, oggi 94 e 4 persone, una più di ieri, in terapia intensiva, in particolare su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale dell'1,88%, sono inoltre 1304 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati altri 15 casi, 1,15%. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni d'età. Nella giornata odierna non si registrano fortunatamente decessi, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva, come dicevo, mentre i pazienti in altri reparti sono 22. E sentiamo ora il parere dei cittadini sul rialzo dei contagi Covid dell'ultima settimana. L'effetto europeo spaventa alcuni, meno altri, e intanto tornano sempre fuori anche le considerazioni sul Green Pass che fra qualche giorno sarà obbligatorio per frequentare i locali e partecipare agli eventi. Il servizio di Gianluca Paladin. La settimana appena trascorsa ha visto protagonista il rialzo dei contagi da Covid in Friuli-Venezia-Giulia così come in tutta Italia. La situazione non è critica ma deve essere gestita. È ora che stiamo assistendo a quell'effetto europeo di calcio o comunque all'allentamento delle restrizioni nelle vite di tutti i giorni. Ecco che con la truppa di Telequattro siamo scesi in città per chiedere ai triestini se sono preoccupati del rialzo dei contagi e se possiedono il Green Pass, la cui obbligatorietà di esibirlo in certi luoghi sta per entrare in vigore. Sì, sono preoccupata per il fatto che l'altro anno, nello stesso periodo, pur non essendo tanti vaccinati, non c'erano tanti contagi. Allora mi faccio una domanda, perché? L'aumento dei contagi io lo sospettavo sinceramente. È preoccupato per questo momento? Sì, certo. Sono molto preoccupato. Spero che i vaccini facciano il loro lavoro. Alguien in passe, quindi mi sento abbastanza tranquilla. Non avendo 20 anni vivo come prima, non c'è che sia tanto cambiare. Però è vaccinato? Sì, 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 l'ho fatto. Ha quindi anche il Green Pass per… Ah, così ce lo può mostrare anche a favore di camera. Io sono vecchietta e resto a casa. Però al Green Pass è vaccinata? Sì, 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 assolutamente sì. L'anno scorso, in questo periodo, senza vaccino eravamo al stesso livello. Sembra che sia più leggera, però non sono preoccupato, ho fatto il vaccino, ho fatto il Covid. Ho fatto la mia vaccinazione e ho anche già il Green Pass, perché mi devo spostare per venire da mia nipote. Dobbiamo riacquistare la libertà, tutti dicono che col Green Pass in realtà la libertà viene negata, ma in realtà è così che gli esercenti riaprono, riaprono un po' lo spettacolo e si torna forse un po' alla normalità. Sono a favore del Green Pass completamente e per rialzo spero che la gente continui a vaccinarsi. Questa è alcune delle voci raccolte. Allora, torniamo alla campagna elettorale per le comunali che si svolgeranno, come abbiamo detto, il 3 e il 4 ottobre. Parte quindi la campagna elettorale per la lista di piazza. Oggi il sindaco, insieme a un utrito gruppo di appartenenti alla civica, ha dato il via agli incontri per presentare i nuovi volti della lista e cominciare a parlare del programma. La lista di piazza avvia la propria campagna elettorale iniziando a presentare la squadra che concorrerà alle elezioni comunali. Il sindaco, l'assessore Rossi, in qualità di presidente della lista, consigliere e assessorio della civica, nonché altri volti nuovi o consolidati, hanno preso parte alla conferenza. Ma i riflettori sono stati puntati su Massimo Tognolli, direttore private banking di un grosso istituto bancario, violinista e giornalista, che apporterà la sua esperienza e le sue idee al gruppo. Io sono un direttore per professione, giornalista e violinista per passione, con il rigore dei numeri nella mente, ma con la musica e la cultura nel cuore. Da oggi il mio impegno per Trieste, il mio impegno fattivo, concreto, diretto, anche in segno di grande riconoscenza verso questa città nella quale sono nato, nella quale lavoro, nella quale vivo con la mia bella famiglia. Sono consapevole che noi viviamo su un giacimento culturale di inestimabile ricchezza, per cui valorizzarlo sarà per me un lavoro, ma soprattutto un piacere. Ho tutte queste persone che mi sono tornato e queste persone che stanno arrivando anche, perché questo che abbiamo presentato oggi è un personaggio straordinario per quello che mi riguarda della mia città. Naturalmente la prossima settimana presenteremo altri ragazzi, anche giovani, naturalmente tutti i ragazzi che lavorano, questa è una cosa importante. Più in generale la civica ha incominciato con la presentazione della squadra, poi arriverà il dettaglio del programma. Confermate intanto le ricandidature di tutti i consiglieri uscenti, eccetto Gabrielli, che si propone con la lista Cambiamo. Tra gli argomenti principali che saranno al centro dei prossimi cinque anni, il sindaco mette al primo posto lo sviluppo del Portovecchio, poi il traffico delle rive e le aree pedonali. Sicuramente il ring attorno alla città che mi consenta di chiudere sempre di più il traffico per quanto riguarda il borgo teresiano e il borgo giuseppino. Ti ricordo il Portovecchio, dove abbiamo delle risorse importantissime e dove sta arrivando Consuega che ha presentato un progetto da 480 tavole, dove Kipar ha presentato un progetto straordinario. Naturalmente il Portovecchio è sicuramente la chiave di volta del futuro della città. Nelle periferie e al disagio che vi si annida è la priorità dello scrittore Pino Roveredo che è candidato nella lista Punto Franco con Francesco Russo. Vediamo. Ho scelto di entrare per la prima volta, nonostante parecchie richieste avute, perché conosco Francesco molto bene, ci conosciamo da molti anni, ci lega una grande amicizia, ma soprattutto conosco la sua serietà. E allora per non lanciarmi nel vuoto mi lancio nella insicurezza e ho scelto questa candidatura. E lo scrittore triestino Pino Roveredo, l'ultimo acquisto della squadra di Punto Franco di Francesco Russo. Alla presentazione, con tanto diritto ormai immancabile, della maglietta nel nuovo sito elettorale all'aperto di Via Santa Caterina, Roveredo ha spiegato che ciò che manca a Trieste è l'attenzione a quelli che ha definito gli ultimi in classifica. Per rimediare, questa è la ricetta dello scrittore Premio Campiello, da sempre in prima linea nel sociale a favore degli emarginati. Di portare le periferie al centro dell'attenzione. Oggi, ahimè, le periferie sono abbastanza trascurate, sembra che tutto si svolga nel salotto buono della città, il centro, e che la periferia non abbia una vita, non abbia una storia, e invece lì ci sono storie straordinarie. Un grande onore, un piacere avere uno scrittore come lui, una persona che ha comunque sempre scelto di rimanere con i piedi ben piantati nelle sue radici, nei quartieri popolari che conosce bene. E nell'occasione lo stesso Francesco Russo ha voluto replicare alla Lega regionale che lo aveva attaccato per non aver votato il suo emendamento sulla piscina terapeutica. Si, si sono dimenticati che ho fatto ben tre emendamenti sulla piscina terapeutica negli ultimi due anni. Loro me li hanno bocciati tutti, poi ne hanno presentato un altro. Io ho votato contro per un semplice motivo, non c'è scritto su quell'emendamento che quei soldi vanno a una piscina terapeutica, di tipo sociale, che è quella che stanno chiedendo 10.000 persone con le loro firme. Il rischio è che vadano per un'ennesima piscina ludico-sportiva. E poi voglio far notare una cosa ai triestini. Nello stesso giorno in quell'emendamento c'erano 5.300.000 euro per il municipio di un piccolo comune di 1.000 abitanti come Forni di Sopra. Ufficiale, la candidatura di Paolo Polidori con tanto di presentazione in piazza Marconi a Muggia e endorsement del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Polidori ha parlato dei suoi obiettivi che si concentrano su lavoro, giovani turismo, anche opere pubbliche e sicurezza. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Mettersi in gioco intanto per fare il sindaco, come ha detto Massimiliano, non è una cosa facile. Bisogna crederci, bisogna avere la forza di portare avanti le proprie idee, i progetti ce li abbiamo come tutto il centro-destra. Siamo gente che ha voglia di fare, quindi non gente che ha voglia di fare progetti che poi non stanno sul territorio. Il centro-destra muggesano è ufficialmente il proprio candidato sindaco. Nessuna sorpresa nel vedere Paolo Polidori come volto di testa per la sfida elettorale nella cittadina rivierasca. Così come non stupisce vedere una forte rappresentanza del centro-destra e soprattutto della Lega, presente oggi in primis il presidente della regione Fedriga, nell'appoggiare la figura di Polidori. Turismo, giovani, occupazione, lavori pubblici fra gli spunti del candidato leghista. Parlando in generale c'è un gran bisogno di dare una risposta al futuro di Mugge per quanto riguarda la parte lavorativa, la parte relativa ai giovani, soprattutto i giovani nella fascia di età adolescenziale. Diciamo finite le medie perché c'è un grosso problema di dare spazi e futuro ai giovani anche dal punto di vista professionale. Mugge ha delle potenzialità enormi per quanto riguarda, questo lo si sa, per quanto riguarda la parte turistica, lo sviluppo della costa, lo sviluppo anche della viabilità e anche per quanto riguarda la rivolutazione del centro storico. E su queste tematiche ci concentreremo fino alle elezioni e ovviamente per lavorarci dopo. Guardare al futuro e ai programmi anziché parlare degli altri e di cosa hanno fatto o vogliono fare è inoltre il messaggio che ha lanciato Massimiliano Fedriga. Noi dobbiamo presentare ai cittadini di Mugge i progetti che abbiamo per Mugge, per questa magnifica comunità. Penso che la politica del dover parlare degli altri per valorizzare se stessi sia una brutta politica che non mi piace. Mi piace chi invece vuole proporre qualcosa di nuovo, magari qualche miglioramento, come si può andare avanti, come si può cercare di valorizzare questa magnifica località e su questo incentreremo la campagna elettorale del centro-destra di Paolo Polidori. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, subito dopo la cronaca e altre notizie. Riprendiamo con la cronaca. Un uomo di 65 anni, Pier Paolo Morello, originario di Maiano, è morto nel pomeriggio di oggi mentre stava nuotando davanti alla spiaggia del Banco d'Orio nella laguna di Grado. Sarebbe stato fatale un malore che l'ha colpito al cuore. Purtroppo sono stati vani i soccorsi. È durata poco la carriera triestina di due ladre di origine serba e del loro complice. La polizia l'ha sgominata dopo un colpo venerdì scorso in via Ghiberti. E con tutta probabilità non era l'unico. Sentiamo. Due ragazze formalmente residenti in Lazio ed un ragazzo senza fissa dimora, tutti di origine serba, giunti a Trieste pochi giorni fa, preso alloggio in un bed and breakfast che utilizzavano come base, sono stati arrestati. Su di loro il sospetto di rapina e furto. Venerdì scorso le due giovani, una delle quali in stato interessante, si erano introdotte in un appartamento di via Ghiberti. Ed erano riuscite ad arraffare oltre 8.000 euro in contanti, monili d'oro ed altro. Interrotte dall'arrivo della proprietaria, erano riuscite a fuggire dopo aver picchiato la donna anche sferrando le calci in pancia. Le indagini sono scattate immediatamente. Il giorno dopo le due ladre erano state individuate mentre si aggiravano in centro. Fra l'altro erano entrate in uno stabile di via Roma, dal quale poi erano uscite furtivamente. Fermate ed identificate, quindi sottoposte a controllo, il PM di turno aveva emesso un decreto di perquisizione in seguito al quale, nella stanza dove alloggiavano e dove era presente il terzo complice, venivano rinvenuti, nascosti nelle valigie, con tanti anche in valuta straniera, monili d'oro, cellulari ed altro, provente di furti e rapine. Parte dell'area furtiva è stata riconosciuta dalla donna vittima del colpo del giorno prima, tanto che si ritiene che la gang abbia consumato altri furti. Sulla scorta delle prove raccolte, gli indagati sono stati dunque trasportati al Coroneo. Tutti e tre i malviventi sono gravati da precedenti reati contro il patrimonio. Nella notte della vittoria dell'Italia agli europei di calcio, due turisti stranieri hanno approfittato della confusione per rubare da Piazza della Borsa uno dei lupi fucsia della mostra diffusa di Cracking Art. Si tratta di un'opera di cui valore si aggira sui 3.200 euro, che è stata poi recuperata dopo qualche giorno al molo quarto. Le indagini del nucleo di polizia giudiziaria e della polizia locale sono partite dalle analisi delle immagini video, che hanno consentito agli agenti di identificare il tipo di veicolo e parte della targa. La pista ha portato a due giovani stranieri di 21 e 24 anni, ospiti in città proprio in quei giorni. Quella sera avevano caricato l'opera in macchina, l'avevano tenuta per una notte e poi abbandonata appunto in molo quarto. Ora dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. L'imminente G20, innovazione e ricerca, che si terrà giovedì 5 e venerdì 6 agosto e vedrà l'arrivo in città di circa 400 operatori delle varie forze dell'ordine, in aggiunta a quelli della nostra città, andranno a rafforzare il dispositivo di sicurezza garantito dalle forze territoriali. La Questura informa che, a differenza di quanto previsto in occasione di altri vertici passati, non ci saranno zone rosse, interdette sia la circolazione viaria che pedonale, ma saranno predisposte limitazioni temporanee durante il transito dei cortei delle personalità partecipanti. Quindi alcuni disagi potranno verificarsi già nelle giornate di domani per quanto riguarda la zona degli alberghi che ospiteranno le delegazioni dei paesi partecipanti e sarà vietato accedere nelle giornate del 5 e 6 agosto all'interno del Porto Vecchio, in particolare al magazzino 28. E giovedì e venerdì c'è lo spostamento anche degli appuntamenti per i vaccini Covid dalla centrale idrodinamica al centro vaccinale del molo quarto. Proprio per questo motivo, per la presenza e la concomitanza con il G20. Quindi l'azienda sanitaria informa che le attività del centro vaccinale presso la centrale idrodinamica di Trieste delle giornate del 5 e 6 agosto sono spostate presso l'hub del molo quarto a causa proprio del G20 in queste giornate. Chi non avesse ancora ricevuto un avviso da parte dell'azienda potrà recarsi presso il centro vaccinale molo quarto nella stessa ora e giorno previsti dall'appuntamento che aveva la centrale idrodinamica. Per qualsiasi dubbio c'è sempre il numero verde Sanità 800 99 1170 attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. e invece il comprensorio di Miramare sarà regolarmente aperto nelle giornate appunto di mercoledì 4 agosto e giovedì 5 agosto nonostante la concomitanza con il G20. Nel centro di salute mentale di Barcola si è insediato Pierfranco Trincas come nuovo direttore. Il nostro Gianluca Paladin lo ha intervistato. Un onore per me iniziare l'attività a Barcola dove è iniziata l'attività, la riforma della psichiatria rivoluzionaria fatta al professor Basaglia. Il timone del centro di salute mentale di Barcola passa in mano Pierfranco Trincas, nuovo direttore della struttura. Anni e anni di esperienze in psichiatria per mettersi a disposizione del centro di Barcola, degli utenti che lo visitano e delle famiglie. Il direttore Trincas poi si è voluto togliere anche qualche sassolino dalla scarpa ritornando sulle polemiche che lo avevano investito. E quindi io sono venuto qua a collaborare, a confrontarmi anche se c'è stata nei miei confronti un attacco mediatico sulla mia persona sui sardi, sulla nostra cultura, che eravamo arretrati culturalmente. Però questo non è vero e quello che a me è dispiaciuto molto è che si è creata una tensione per quanto riguarda gli utenti e soprattutto i familiari che mi hanno rivolto l'invito addirittura di non presentarmi. Nell'ultimo periodo della sua carriera Pierfranco Trincas è stato direttore del secondo servizio psichiatrico di agnosi e cura dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e dal 2019 responsabile della struttura complessa del capoluogo Sardo. Quello che io voglio dire è che la mia attività sarà rivolta soprattutto alla continuità. Io non devo abbattere niente, non devo distruggere nulla. Mi confronterò con i colleghi, con i collaboratori e questo è nato soprattutto l'anno scorso dopo che io ho passato il Covid e sono rimasto 36 giorni in isolamento di cui 11 rianimazioni in fin di vita e questo mi ha fatto cambiare il modo di vivere per cui ho detto io voglio fare un'esperienza nuova. Mi manca poco, sarà l'ultimo periodo della mia attività lavorativa che la voglio dedicare a Trieste. I sindacati FIAS e CONAPO hanno avanzato una proposta per il miglioramento dei tempi di soccorso negli interventi che richiedono la presenza sia dei sanitari che dei vigili del fuoco. Vediamo. Migliorare attraverso un supporto tecnologico i tempi del soccorso negli interventi che richiedono la presenza sia di personale sanitario che dei vigili del fuoco è la proposta illustrata oggi dai vertici dei sindacati FIAS e CONAPO un'idea già presentata al Presidente della Regione Fedriga e al Vice Riccardi che prevede in sostanza una modifica al sistema informatico della SORES per migliorare l'operatività e le tempistiche di intervento nei casi di richiesta di soccorso. La proposta prevede che ci sia un sistema che tecnologicamente consenta sia all'operatore della SORES quindi del 118 che al soccorso tecnico quindi ai vigili del fuoco di connettersi in una conferenza 3 per assumere tutte le informazioni relative alle esigenze del soccorso da inviare sul luogo dell'evento. Questa proposta mira migliorare i tempi di risposta dei soccorsi in Friuli Venezia Giulia. Noi chiediamo sostanzialmente che ci sia più interconnessione fra la sala operativa del 118 e quella dei vigili del fuoco in modo da migliorare la risposta in questa Regione che attualmente non è al massimo livello. La richiesta, ha spiegato il segretario Potoschnik, esula dalla riforma del sistema del soccorso regionale di cui la FIAS è promotrice. Non vuole entrare nel merito della riorganizzazione complessiva delle centrali operative che rimane il nostro obiettivo di riportarle alle tre centrali di area vasta o provinciali come era qualche tempo fa che funzionavano sicuramente meglio. Questa proposta va nella direzione di mantenere un servizio più rapido, più tempestivo nei momenti di soccorso. Il sindacato dei vigili del fuoco Conapo inoltre avanza un'altra richiesta alla Regione riguardante gli incendi boschivi, tema di grande attualità. Bisogna che la Regione faccia questa convenzione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, molto importante. Questa convenzione darebbe la possibilità di avere cinque unità in più di vigili del fuoco e per non creare disagio avere meno personale nelle caserme. Questo darebbe una squadra in più per supportare questo tipo di intervento. Continuano con un buon riscontro dei cittadini le iniziative del Comune in Movimento dedicate all'alfabetizzazione digitale. Oggi tappa in Piazza della Borsa con le poste italiane. Vediamo. L'obiettivo principale della Giunta di Piazza è quello di stare vicino ai cittadini. Continuiamo a farlo quest'oggi cercando di divulgare conoscenze e consapevolezza sui temi del digitale e sui servizi legati al mondo dell'innovazione. Oggi più che mai necessari. L'utilizzo attraverso il digitale dei principali servizi di uffici e amministrazioni comporta una serie di vantaggi per i cittadini che sempre di più si rivolgono al mezzo informatico, alla richiesta di informazione e alfabetizzazione digitale risponde l'iniziativa Comune in Movimento che oggi con l'ufficio mobile ha fatto tappa in Piazza della Borsa. Tappa speciale anche perché insieme all'assessore all'innovazione Francesca De Santis, al personale tecnico del Comune e di Insiel erano presenti anche le poste italiane per promuovere i nuovi servizi digitali. Insieme a noi quest'oggi c'è Poste Italiane che ha voluto supportare sin da subito con grande entusiasmo questo progetto e spiegherà a tutti i cittadini la necessità e l'importanza di avere la propria identità digitale, lo SPID. Non dobbiamo avere paura del cambiamento ma imparare a governarlo attraverso l'informazione, attraverso la conoscenza in modo che tutti possano accedere senza particolari problemi a questi servizi. In realtà il sistema lo stanno già usando in tanti. Noi nel nostro ufficio cerchiamo di agevolarli già quando sono in sala che attendono e gli facciamo vedere come è possibile fissare un appuntamento sia dal sito sia dall'app scaricando sul proprio smartphone l'app appunto Ufficio Postale e anche, mi piace tanto WhatsApp, ecco c'è l'opportunità di chattare con poste italiane al 371-500-3715 chiedendo appunto anche lì l'utilizzo di servizi e anche di fissare l'appuntamento. È tutto per questa edizione, ci rivediamo domani mattina a Sveglia Trieste a partire dalle 7 in compagnia di due ospiti Marco Prels e Roberto De Gioia. Grazie a tutti e buona serata.